Mentre la paura della guerra aumenta, la minaccia del covid continua a fare il suo corso, ma i bilanci in Calabria registrano un calo dei contagi. I dati dell'ultimo bollettino infatti parlano di 1.805 casi di positività e 4 decessi con 10.698 tamponi eseguiti. Scendono anche i ricoveri nei reparti ordinari, stabile. Invece il dato relativo all'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive aumentano i gueriti di 1.695 casi. Nel frattempo si avvicina alla fine dello stato d'emergenza covid che il governo ha fissato per il 31 marzo e che non ha nulla a che vedere con il medesimo provvedimento relativo alla guerra in Ucraina che avrà inevitabilmente conseguenze economiche sull'Europa intera e quindi anche sull'Italia.